Allora siamo qua con il fotografo di scena Edoardo Castaldo, dicci qualcosa a caldo sulla seconda stagione. Vorrei dire che fra poco abbiamo finito di girare, ce l'abbiamo quasi fatta, è stato ieri che abbiamo fatto la foto di gruppo, manca poco, io manca pochissimo. E' fatta, è fatta, il peggio è passato. Gaia, Gaia, siamo qui, che ti sei fatta? Questi sono i ragazzi che cercano di acchiappare i gabbiani, vero? Stefano cerca di acchiappare i gabbiani, ci sono tutti, salve, salve, salve Giovanni. Lui pratica, c'è Timmy qua, che sta spargendo cibo per attirare i gabbiani. Allora in questo rione veramente c'è un'assistenza stradale, allora, grazie, c'è una macchietta qua. Ok, qui mi stanno mettendo la benzina. No, non è la mano, manca un'automia, è 5 centesima. Allora, dai 5 centesima. Eh, sì, ma... La fede, la fede, la fede, la fede. La fede, 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 la fede. Eccoli, guardali loro. Che carini. Noi siamo i Power Ischia. Il tuo potere è avere i sandali i tuoi pezzini. Il mio potere... Lasagna, riso al festo, filetto di orata al limone, spezzatino di carne con verdure, vegetariano, parmigiana e melanzane. Contorni, piselli, duro e colori. Questo mi fa tutto perché... Ne fai due, due sti. Io non ho doppato. Che prendete ragazzi? Emore! Vedete, davanti a voi, un uomo distrutto. Eh, chi sta, chi sta, resta morendo, chi le distrutte? Federico Chiappabianca. Con mezzo con di mano. Questa è una cosa. Questa è una cosa. Poi sarà quel che sarà Dalle mie braccia non dirai L'amica geniale, storia del nuovo cognome Nanduccio alla guida, Rino Cerullo nel mezzo Stefano Carracci alla destra E Adriano Celentano nel cuore Pienamente no Allora, buonasera Salve Buonasera Sta arrivando pure Rosario, stiamo facendo un ciao Stiamo facendo un ciao Ma per questo non so Ciao, ciao Rosario La cabotta verde Ma io posso fatica questa gente Ma con mamma fatica Vabbè, comunque siamo sul set Stiamo sclerando, come vedete Dobbiamo fare un notturno fino alle 5 domattina Oh, la buona Che non si può, chi sei? Chi stiamo salutando? Niente, è un video che poi pubblicherò in futuro Ma pubblica adesso Che te frega Ah no, non lo fare che ho detto io Si pubblica adesso Lui è il nostro responsabile Dice queste cose Non sono responsabile di niente Neanche di me stesso Sì, sì, lui è il responsabile Ma lei è un attore Sono 9.40 Sono 9.40 Fino alle 5 domattina Dobbiamo stare qui E siamo già messi così Ciao Ciao Scena improvvisazione al matrimonio Quattrocento uno tredicesima prima Allora rinunca Come stai? Ma ma chi pavo? Io pavo al ristorante Ci sono questa ridere Ma chi stai? Ma ma chi pavo? Perché non pavo tu pavo? Ma che stai facendo? Mi sapevo che pavo pavo tu Stai facendo Marcello No facendo Dammi la mano E torno vicino Può nascere un fiore Nel nostro giardino Potrà mai gelare Può crescere un fiore Da questo mio amore Per te Eeeh Adio 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 Sarada la 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 Mano a mano Di sopra il suo viso Lo stesso sorriso Quel vento crudene Si arriva a rubato E torna fedele l'amore è tornato allora adesso ci facciamo un giro di saluti un giro di saluti auguri per gli sposi forza auguri per gli sposi tanta felicità ma chi stai mandando prima di tutti no no no, è gli sposi, un augurio agli sposi un augurio di prosperità figli maschi è finito signora Solano che dice il padre e lo sposo ovviamente i figli erano due sono finiti con questo matrimonio vabbè te ne hai altri ci sono i cerullini i cerullini muoiono spoiler muoiono alla fine del matrimonio ma devi prendere il manuale ah questa è la divisa quella dei controllori ci hanno voluto la CTP ho trovato posto che bello mi scusi un augurio agli sposi tanti auguri tanti tanti auguri ci saremo anche noi ah va bene andiamo anche dal peluso per un augurio agli sposi un ottimo augurio grazie la vostra e adesso per ultimo non per importanza un augurio da Michele Schia una vita inguagliata e giornata bene grazie ciao ah è un video aspetta ciao amore non mi provocare arriverò fino alla fine di questo set salutiamo casa Carracci salutiamo il cortile delle ragazze casa di di Lila casa di Elena la salumeria la salumeria Carracci grazie di tutto salumeria è stata veramente veramente una potica molto affidabile strada principale grazie io vorrei sapere chi è che bene questo video